Uno studio condotto sui bambini delle primarie, io dico ancora elementari, ma sono... Cioè le primarie è una parola complicata. Sì esatto, parleremo dopo di altre primarie. Ma perché i bambini delle primarie sono... È impietante, diciamo elementari, io dico ancora elementari. Insomma, un bambino su cinque a Roma, ma immagino valga per tutta l'Italia, non sa usare il corsivo e gli altri quattro diciamo dicono di saperlo usare, ma poi nei fatti non lo fanno. Insomma, sta scomparendo il corsivo. Roberto, spiegaci, intanto voglio chiedere, tu le canzoni le scrivi? Quando scrivi un... Assolutamente, a mano, tutto ciò che viene dall'anno scrivi a mano. In corsivo? Certo. Mi capita anche lo stampatello, però non lo scrivo a mano. Io uso ancora il corsivo, sì sì. Anzi più Cecilia. Poi ti ricordi meglio se scrivi... Cioè io se scrivo a mano mi ricordo di più quello che ho scritto che se scrivo a macchina. E a mano in corsivo, non scrivi? Sì, sì, sì. Il stampatello è lunga. Il stampatello infatti è lungo, però i ragazzi lo usano. Allora, Roberto, spiegaci un po'. Come è nato questo corsivo? Allora... È come morto anche. Il corsivo ovviamente è una scrittura a mano. È parecchio antica come scrittura a mano. Che caratteristiche ha il corsivo? Il corsivo ha la caratteristica di essere veloce. Veloce perché le parole, le lettere sono attaccate una all'altra. Quindi non c'è bisogno di perdere tempo. Staccare la mano. E in più ha questa caratteristica che le lettere tendono a destra. Perché noi siamo quasi sempre destrovorsi, non mancini. E viene molto meglio scrivere così che scrivere così. Viene molto meglio, molto più facile. È antichissima la situazione. Cioè c'erano già da tempo, già tra i romani, i copisti che si chiamavano amanuensi, cioè servi a mano, che copiavano. Non in questo modo, eh. L'emanuensi non copiavano in questo modo. Copiamano lettere latine che erano molto diverse. Erano staccate una dall'altra. Tra l'altro le lettere latine non tutte sono uguali alle italiane. Noi scriviamo Caesar, ma in latino nel primo secolo, quindi quello importante. La scrittura era diversa. Caesar è così. Ca-e-s-a-r. Questa è la scrittura latina. Cesare scriveva così. Forse questo nessuno lo sa. Ma è importante. A parte questa sfacezia, perché è una facezia, a Roma diventa importantissimo, negli ultimi anni del secolo, scrivere, copiare, che ci siano questi amanuensi. E viene fuori una scuola, gli amanuensi sono, come ho detto, servi dello scrivere. Viene fuori una scuola vera e propria, fondata da un politico, Aurelio Cassiodoro, che nel 500 d.C. aprì un monastero bellissimo, un colpo di schillace, un luogo dove si radunavano gli amanuensi e scrivevano. Ricopiavano tutti i testi latini, i greci, e questa... Poi nel Medioevo questa cosa sarà andata ancora più... Ah, tu vai a portarmi già al Medioevo? Per dire che già loro erano degli eroi della memoria. Lo erano. Non ci sarebbe arrivato nulla. Nel Medioevo diventa tutto più galvanico, anche e soprattutto nel rinascimento, nell'umanesimo. Quindi abbiamo nomi famosi, nomi come Niccoli, nomi come... Niccolò Niccoli era uno del florentino del rinascimento. Allora si comincia a scrivere come dicevamo noi, la scrittura viene inclinata e si va avanti in questo modo, fino all'avvento della stampa. Pensavo fino all'avvento dei medici, che poi invece usano il corso. No, questo non è il modo in cui scrivono i medici. Sono i farmacisti che fanno delle scuole apposta per tradurre le ricette scritte, diciamo... Questo non è sicuramente la scrittura dei medici. Noi abbiamo dei grandi, grandissimi, nell'epoca della stampa, grandissimi personaggi che hanno dato scrittura di questo tipo. E tra l'altro la scrittura corsiva esiste ancora, come inciso, incisivo in certi romanzi. Cioè io ho letto la Divina Commedia fatto... Certo. Sui giornali, i tatuaggi. I tatuaggi, per esempio. Roberto, ascolta... No, 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 mi... Finito. Grifo? Non lo concludo. Aldo Manuzio? Noi consideriamo. Mi arrendo. Non consideriamo che i francesi chiamano questa scrittura italic. Che bello. E gli inglesi italic. Quindi è proprio una roba nostra. Ma anche gli spagnoli, eh. L'itra graffa. L'itra graffa perché Grifo è l'autore più importante dell'umanesimo, di questo tipo di scrittura. Ma perché non si usa più? Cioè, questa è la cosa che ci serve... Cioè, uno dirà, per le nuove tecnologie, però è solo quello? È per le nuove tecnologie perché i ragazzi sono abituati a computer e non hanno più la dimensione di questo tipo. Non ce l'hanno. Però c'è anche un'altra ragione. Che mentre a scuola bisogna rimettere a posto questa cosa, si insegna molto di più a leggere. E a valutare gnogne, queste cose qua. Il metodo di scrittura, il metodo per insegnare scrittura è ancora quello del 61. Cioè, bisogna cambiarlo. Ci vuole un'altra maniera. E probabilmente non si cambia perché non è moderno. Si pensa che non serve a niente. E invece, e qui te lo dico e qui non lo nego, non esiste niente di più bello della scrittura corsiva. Perché è l'anima? Perché la scrittura a computer o altro è omologa. Fa tutti uguali. Invece c'è il destino, l'anima, il senso della vita, la voglia di essere se stessi, farsi capire. In una lettera d'amore, la tua fidanzata capisce che sei tu da come scrivi le L, le P, le G, le H. E lui, è lui, è lui. E aumenta amore proprio per questo. E la bellezza della scrittura umana non può morire. Io guardo, quando fa così mi incanta, vero? Non c'è più niente da dire. Roberto, grazie. Grazie a te. Ti saluto perché guarda, vai via così perché vai proprio bello. Vai via, che ci lasci proprio corso un'onda. Grazie. Ci fai una L, una lettera poetica. Poi ce la copiamo tutti. Vuoi fare una lettera poetica come in? Sì, faccio una parola. Una parola poetica? Sì. Una parola poetica? Una sola, però in corsivo. Una parola poetica. In. Insieme. Bellissimo. Bellissimo. Guardate che bella quella M così. Grazie, grazie Roberto Vecchioni. Ciao. Noi sapete come...